Investe un milione e mezzo di euro per costruire 5 villette in provincia di Messina, ma l'affare va male. Così un 59enne di portici nel napoletano, secondo la ricostruzione della procura di Roma, avrebbe tentato un'estorsione ai danni del direttore commerciale del consorzio romano a cui si era rivolto, chiedendogli ben 7 milioni di euro in restituzione, minacciandolo davanti ad altre persone e persino con una pistola in un bar della capitale. Dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma su disposizione del GIP del Tribunale Capitolino, per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da questa abitualmente frequentati. Quando gli specialisti del Gico delle Fiamme Gialle di Napoli si sono recati a portici per notificare la misura, hanno eseguito su delega della procura romana anche perquisizioni in due abitazioni e un'auto di proprietà dell'indagato, che risulta non aver presentato dichiarazioni dei redditi dal 2006. I finanzieri qui hanno trovato 660 mila euro in contanti, assegni postdatati per 130 mila euro, tre reperti archeologici, 15 orologi di lusso di note marche, due telefoni cellulari, ma anche due pistole semiautomatiche modificate, comprensive di caricatore e cartucce, tre pistole revolverle con cartucce, di cui una con matricola brasa e una modificata, e circa 200 munizioni di vario calibro per arma corta. Il 59enne è stato subito arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione e trasferito in carcere a Poggio Reale. Armi, reperti archeologici, denaro e preziosi sono stati sequestrati, mentre adesso sono in corso ulteriori approfondimenti e analisi di tipo balistico sulle armi sequestrate e sulla documentazione di interesse investigativo trovata nel corso delle perquisizioni.